Alettra, vai da Pito per favore, muoviti. Ma sempre io! Ciao piccolina. Mamma! Oh buonasera. Mamma mia che brutta faccia, te l'hai visto? Oh buonasera signora. Cerco soltanto un posto letto per questa notte. Magari anche un pasto caldo. Mamma questo che siete da mangiare? La nostra roba? Prego prego, entrate pure. Stavo preparando la scena. Accomodatevi. Grazie. Senti bello, non ti mangiare il mio pane e il mio pollo, se no ti scassa i palle, capito? No, no, perché... Certo, vieni qui. No, la filastrocca, bello figlio, se vuoi lo facciamo palle di pelle di curio. L'avete gradito? Tutto è buonissimo. Allora possiamo andare a dormire? Sì. Mamma questo dove dorme, scusa? Nel nostro lettone, dopo voi che dorma. Come fanno tutti i viandanti, dormono nel letto con noi. Ma come è nel nostro lettone? Che sto facendo pure? Puzza! Senti, ti stai fermo. Mamma posso venire davanti a te? Questo non mi piace. Sì, sì, vieni pure avanti. Vieni vicino a me tesoro. Senti, posso tornare davvero prima? Mamma? Tss, non c'è. Guarda il sapervertito. Papà, questo qua li sta provando con la mamma. Ehi, tu. Dica. Mettiti dietro di me, muoviti. Va bene. No, ma non è vero. Non... Non c'è. Sì. Vieni bene. Ah, ah!